Ci sono però molti casi che riprendono... Un bilancio positivo quello dell'Unità Operativa di Cardiologia di Arezzo nell'ambito del progetto Cuore. Nei 280 casi di arresto cardiaco pervenuti nei primi 8 mesi dell'anno, il 50% dei soggetti ha raggiunto la struttura ospedaliera ancora in vita. Un risultato che dimostra la funzionalità della sinergia tra territorio ed ospedale. È una rete al quale si lavora da anni e devo dire che si è creata una completa integrazione con soddisfazione reciproca ma soprattutto da parte dei pazienti con il servizio di emergenza urgenza. È una rete che è partita soprattutto con la finalità di far sì che il paziente con l'infarto miocardico acuto arrivasse nel posto giusto al più presto. Sparsi sul territorio provinciale ci sono oggi 500 defibrillatori e oltre 15.000 cittadini formati al primo soccorso cardiologico in grado di applicare il defibrillatore e anticipare così l'azione che sarà svolta dai sanitari. La possibilità di essere rianimati e defibrillati sul territorio significa sostanzialmente salvare delle vite. I risultati ottenuti sono veramente molto molto buoni, sono andati al di là delle aspettative iniziali che noi stessi che avevamo promulgato il progetto ci eravamo profissi e quindi siamo molto soddisfatti, si tratta di continuare su questa strada e soprattutto continuare a chiamare il 118 ogni qual volta c'è il sospetto di un attacco cardiaco.